Chi ti conosce da una vita sa che sei una buona forchetta, che sforcarti è la tua specialità e ti emozioni ogni volta. Anche Foxy vuole farsi conoscere e raccontarti di come i suoi prodotti rispettino l'ambiente, che non saranno mai testati sugli animali e che le confezioni sono 100% riciclabili. E' tutto spiegato sull'etichetta, perché Foxy per te non ha segreti.